Il nucleo radiomobile dei carabinieri di Battipaglia ha arrestato due pregiudicati di 30 e 46 anni provenienti da Atripalda. I due sono stati fermati a Battipaglia pochi minuti dopo aver provato ad utilizzare banconote false in una parafarmacia del posto. A seguito della perquisizione è stato reperito altro denaro proveniente dall'utilizzo di banconote false, difficilmente riconoscibili, in due attività di Ponte Cagnano-Faiano. Stando alle ipotesi avanzate dagli inquirenti, sembra che i due abbiano effettuato un vero e proprio tour della zona con l'obiettivo di utilizzare le banconote in questione attraverso il metodo dell'acquisto di prodotti a basso costo a fronte di un pagamento con una banconota da 50 euro.